Ciao ragazzi, questi sono i supporti motore che ho rivisitato per renderli un po' più rigidi. Eccoli qua, questi sono quelli frontali, a me manca quello là, lato cambio, quello un po' più piccolo. Ma già la differenza si può vedere che non c'è gioco, come vedete non c'è gioco e ancora deve fare, si deve asciugare bene. Pochissimo gioco.